Sarà ancora una volta lo sport, più delle feste comandate, a garantire la maggior parte delle presenze negli alberghi di Arezzo. Lo dimostra l'indagine previsionale effettuata dalla ConfCommercio tra le 19 strutture del comune capoluogo a pochi giorni dal weekend pasquale. Due eventi legati ad equitazioni rugby in particolare incideranno dunque più della Pasqua sui bilanci della ricettività. A dare una boccata d'ossigeno al settore arriveranno gruppi organizzati da alcuni tour operator internazionali che oramai da due o tre anni utilizzano gli alberghi aretini come base per visitare il centro Italia. Anche in questo caso la concomitanza con le festività pasquali sarà solo casuale. Per il resto, nelle prenotazioni alberghiere è ancora praticamente invisibile l'esercito silenzioso di quanti, in coppia o con figli e amici al seguito, approfitteranno delle vacanze di Pasqua per trascorrere qualche giorno in una città d'arte come Arezzo. La maggior parte degli alberghi, in particolare quelli abituati a lavorare con i gruppi per il weekend di Pasqua, ha già prenotazioni per otto camere su dieci, ma per una media di una o due notti al massimo, spiega la responsabile dell'area turismo di ConfCommercio, Laura Lodone. L'indagine conferma dunque che la scelta di Arezzo come meta turistica non sia legata all'appeal delle sue risorse storico-artistiche, ma ad altre motivazioni. I turisti non arrivano da noi per il richiamo della città, ma per fare qualcosa di specifico, uno scalo tecnico se viaggiano in gruppo oppure per seguire una passione come lo sport preferito. Ed è proprio il turismo delle passioni, secondo ConfCommercio, la nuova frontiera delle vacanze. Per quanto i dati dell'indagine previsionale facciano sperare in una Pasqua da pienone, nessuno si lascia andare a facili entusiasmi. Per la Pasqua è probabile il tutto esaurito. Per il 25 aprile, secondo ConfCommercio, le promesse sono buone, mentre ancora rimane incerto l'esito del ponte del primo maggio, che sarà rimesso soprattutto al last minute. Per il 25 aprile, secondo ConfCommercio, le promesse sono buone,